Cari amici, domenica 13 dicembre alle 21.30 vi aspetto per la seconda parte del webinar sul caso amicizia. Una seconda parte che sarà molto ricca, approfondiremo il discorso sulle caratteristiche di questi esseri che contattarono il gruppo che poi appunto prese il nome di amicizia, quindi sui W56 o ACRI, che era il loro vero nome, tra l'altro un nome che racchiude dei significati molto interessanti di cui parleremo. Vedremo in maggiore dettaglio i tanti fenomeni straordinari, eccezionali, che grazie alle incredibili tecnologie dei W56 si manifestavano all'interno dei gruppi chiamati amicizia o del gruppo chiamato amicizia, che comunque comprendeva persone in varie zone d'Italia. Ascolteremo la voce dei W56, tra l'altro vi proporrò un audio che è un'assoluta novità, potremo sentire dal vivo le voci di questi esseri mentre parlavano con i componenti del gruppo. Vedremo tantissime foto, tantissimi filmati e altro ancora, quindi un'altra puntata molto ricca, molto interessante, quindi lo ripeto, vi aspetto tutti domenica 13 dicembre 2020 alle ore 21.30 sul mio canale YouTube PierGiorgio Caria 59. Per tutti coloro che volessero avere informazioni in merito su come partecipare, eccetera, scrivete a eventi di chiocciola nuovocielonuovaterra.it. La partecipazione al webinar sarà con contributo libero e consapevole, sempre per dare la possibilità alla maggior parte delle persone di accedere a questa bellissima e interessantissima informazione. Vi aspetto tutti a domenica sera 13 dicembre ore 21.30 sul mio canale YouTube. Grazie a tutti. Grazie a tutti.